di rendere concreto qualcosa che facciamo fatica a riconoscere, che è partire da un'esperienza, con i suoi punti di forza, con i problemi che sono stati affrontati e si è cercato delle soluzioni, e da lì poi aprire uno sguardo più ampio. Allora lascio la parola alla professoressa Sclavi. Ok, buongiorno a tutti quanti. Mi avete veramente messo in crisi, perché man mano che ieri ascoltavo i vostri discorsi, anche oggi, io continuavo a prendere appunti e il mio schermetto che mi ero preparato cambiava in continuazione. Quindi adesso che cosa vi dirò? Non lo so neppure io, perché lì c'è uno schema, io salterò di pallinfrasca. Mi piace essere una pentola in ebollizione, speriamo di trasmettervi l'energia necessaria per parlare di democrazia deliberativa, che è fondamentale. Intanto incomincio subito, ma intanto qua abbiamo il titolo. Voi avete messo verso Trieste, io ho messo verso Nantes. Nantes, io adesso sto facendo uno studio di più di un anno in questa città, sulla Loira, la città, la Nantes, Nantes, si dice Nantes, sulla Loira, sull'oceano atlantico, probabilmente la ricerca durerà due anni, ma sto scrivendo capitoli e pezzi che intanto pubblico, perché Nantes è una città nella quale la democrazia deliberativa dall'89 in poi, continuamente in evoluzione, perché poi è un modello che deve continuamente imparare dagli errori, eccetera, cosa che fa, è molto avanzato, è uno dei più avanzati in Europa, forse nel mondo, da certi punti di vista. Ed è il motivo per cui io, occupandomi di gestione dei conflitti, ascoltativo, democrazia participativa, sono lì a studiarlo, perché amo imparare dalle buone pratiche, perché in realtà, stando lì, io imparo in continuazione delle cose che altrimenti non mi sarebbero mai venute in mente. Come disse un famoso antropologo, ascolto risposte a domande che non mi sarebbero mai venute in mente. Vedendo quelle cose, dico, vabbè. Allora, io incomincio proprio su vostra provocazione, perché io mi sono sentita qui degli esempi di gestione dei conflitti che partono dai problemi della circoncisione o no, quelli che c'erano qui ieri lo sanno, il dialogo fra Mosè e suo suocero. Allora, adesso vi devo proporre un'altra storiella, che secondo me è un pochino più puntuale sopra il tipo di dinamica che è alla base di una democrazia partecipativa vera, che è deliberativa. Allora, la storia è questa, che, essendo questo un quadro religioso, mi è venuta in mente apposta. c'è un povero contadino nei Caraibi, molto povero, ma molto pio, che tutte le mattine all'alba si alza e prega a Dio che gli dia la serenità di affrontare i travagli della vita quotidiana. E una mattina sente la voce di Dio che dice, per premiare la tua fede, io, dimmi cosa vuoi e io te lo concedo. Contadino sconvolto per sentire la voce di Dio, poi dice, padre, io non ho nessuna idea, fammi chiedere alla mia famiglia, chiedo a mia moglie e a mia madre, che è diventata cieca da poco, che insieme domani ti dico qualcosa, perché io adesso non so solamente cosa chiederti. Quindi tutto sconvolto, barcollando, torna verso casa della statua nel tempio e incontra la madre cieca con il suo bastoncino che stava camminando intorno a casa e dice, mamma, guarda cosa è successo, la voce di Dio mi ha detto, la madre si mette a piangere, lo abbraccia, dice, figlio mio, se tu chiedi a Dio di ridarmi la vista, che io mi sento così povera, così a vostro carico, non ho più senso, la mia vita, io ti sarò grata. Lui dice, a Dio io posso chiedere un miracolo, chiediamo che ti dia la vista. In quel momento arriva la moglie, e lui dice, guarda, è successo questo, abbiamo deciso con la mamma che gli chiediamo di ridargli la vista, e la moglie dice, ma siete tutti scemi. Non esiste. Tu hai un'occasione del genere e chiedi a Dio di ridare la vista a una che tra un paio d'anni muore, non gli serve a niente. Tu devi chiedere che ci dia un figlio che si prenderà cura di noi quando saremo vecchi, e comunque quello che ci manca veramente è un figlio. E due donne incominciano a litigare, a prendersi per i capelli, sei egoista, no, pensi solo a te stessa, eccetera. Il pover uomo, desolato, le lascia e cammina nel villaggio e va a trovare il vecchio saggio. In queste storie c'è sempre il vecchio saggio, naturalmente. Va da questo vecchio saggio del villaggio e dice, guarda, una cosa meravigliosa si è trasformata in una tragedia, in un incubo. Perché io domani cosa dico? Cosa chiedo? Se chiedo di ridare la vista a mia madre, mi dice mia moglie, non mi parla più. Se chiedo quello che vuole mia moglie, mia madre mi odia. Io personalmente avevo chiesto un po' di benessere economico, perché qua non sappiamo mai cosa mangiamo il giorno dopo, quindi abbiamo tre cose incompatibili. E quindi non so più cosa fare. Il vecchio saggio dice una cosa fondamentale. dice, guarda, che il tuo problema è come pensi, è il tuo modo di pensare. Scusa, ma tua madre ha ragione a volere la vista, tua moglie ha ragione a volere un figlio, e tu hai ragione a volere un minimo di benessere economico, a non morire di fame, no? Quindi tu assumi che avete ragione. Mettiti qui, riposati, e vedrai che domani mattina verrà fuori una soluzione, a partire dall'assumere che hanno ragione tutti quanti. Questo qui non sa che altro fare, si mette lì e dorme. Alla mattina all'alba si sveglia, illuminato, felice, si mette a cantare, quasi abbraccia il vecchio saggio, quasi ballando, ritorna nel tempio e dice, signore, ti ringrazio per avermi dato la possibilità di consultare la mia famiglia. E abbiamo deciso che, siccome mia madre è cieca, e probabilmente ha anche pochi anni di vita, noi abbiamo deciso che, quello che ti chiediamo è questo, che prima di morire, possa vedere un nipotino che cresce sano e forte perché non gli manca mai da mangiare. Allora, questa è una storiella molto importante perché, a parte che non sempre abbiamo Dio che ci concede le cose, eccetera, fa capire che il motivo per cui la soluzione è, è, la soluzione, il passaggio, uno dei cambiamenti fondamentali che bisogna operare per passare dal nostro sistema di potere, di governo, che è quello della democrazia classica, a un sistema di democrazia liberativa, è un passaggio da un modo di pensare o o a un modo di pensare e e. Allora, come ragionava il contadino povero e pio? Ragionava come ragioniamo più o meno tutti. Aveva varie alternative che si presentavano come incompatibili e pensava qual è meglio e qual è peggio. Allora, se è meglio che io chieda per mia madre, no, dopo, allora è meglio quella, no, e così via. E quindi era bloccato lì e lì non c'era una vera soluzione in effetti, no, perché qualsiasi cosa avesse deciso anche avvalutando tutti i pro e contro di ognuno, cioè prendeva le tre scelte separatamente, su ognuna valutava i pro e contro, a quel punto comunque la soluzione era sempre fallimentare, cioè era sempre deludente. non si poneva perché assumeva che fosse impossibile la possibilità di affrontare, di ampliare le opzioni e dire e, e, no, che è quello che il vecchio saggio gli suggerisce di fare. Allora, qui abbiamo una slide che è diventata bianca nel frattempo, non ho capito bene perché, che è un po' la base del discorso che io vi faccio, che è di questo sociologo tedesco, si chiama Ulrich Beck, che dice tutti i principali problemi del nostro tempo sono connessi al fatto che il nostro corpo è nel ventunesimo secolo, dentro questa società che è diventata molto più interrellata e complessa, mentre il nostro modo di pensare e le nostre istituzioni sono rimaste al diciannovesimo. Questa è la prima cosa che dice ed è assolutamente così. Quindi noi abbiamo un problema di capire bene come funziona il mondo del diciannovesimo secolo e che cosa va cambiato per portarlo al ventunesimo. Che vuol dire a una... E il secondo consiglio che dà Ulrich Beck è appunto questo passaggio sia nei rapporti micro che meso, che macro, che personali, che istituzionali è un passaggio che deve prevedere appunto passare da una forma di modalità di affrontare i problemi o o a una forma e e. Io ho un nipotino con il quale parlo spesso mi potrebbe essere a 16 anni comunque ormai queste cose le ho imparate benissimo quindi ogni volta che c'è un litigio o qualcosa eccetera dice nonna qui dobbiamo trovare una soluzione e. E quindi e quindi questa è la cosa. Allora che cosa succede? sono andando a parte bagliata va bene così o no? Sì questo è solo uno quello e io vedo l'altra va bene tanto non le seguo lo stesso quindi non è un grande problema allora Nantes a Nantes dall'anni 80 io poi sto scrivendo un libro quindi vi dico le cose essenziali dagli anni metà anni 70 inizio metà anni 80 attraverso una serie di crisi di fallimenti della sinistra emergono emerge l'idea che questi fallimenti sono dovuti alla incapacità totale di ascolto delle istituzioni politiche in questo caso dei quartieri popolari c'era stata un'elezione nel 2003 che i socialisti assumevano che avrebbero vinto con grande facilità e invece hanno preso una sconfitta che non si aspettavano e questa sconfitta è legata al fatto che i quartieri popolari o si sono astenuti o hanno votato a destra e questo è uno shock enorme perché per loro era sicurissimo quello shock enorme è stato utile perché hanno detto qua c'è qualcosa in noi che non va nella gente e quindi e da questo e da un'altra esperienza che adesso non vi racconto ma molto importante era già anche quella viene fuori l'idea che poi dall'89 viene messa in pratica che la società è diventata così complessa già allora immaginiamoci adesso è diventata così complessa per cui nessuno dei saperi che ci sono dentro la società da solo è in grado di fare diagnosi credibili adeguate e trovare delle soluzioni accettabili che funzionano quindi non è una questione morale eccetera è proprio una questione di efficacia di efficienza e quindi i tre poteri sono il primo potere dei tre poteri che gli viene in mente è quello della conoscenza ordinaria la conoscenza della vita quotidiana cioè loro dicono noi abbiamo fatto tante cose per i quartieri popolari pensavamo che dovesse essere contenti questi non sono contenti per niente quindi andiamo a chiedere loro decidiamo insieme a loro cosa sono le priorità e come farle cosa vuol dire decidere insieme a loro insieme alla gente che abita nei quartieri delle case popolari quindi la conoscenza ordinaria va va messa in gioco allora per fare per prendere decisioni che funzionano non solo nei quartieri popolari ma in generale più il sistema è complesso e più ho bisogno che i tre saperi sono il sapere dei politici è un sapere decisionale il sapere dei professionisti degli amministratori che è il sapere del know-how e il sapere della vita quotidiana che è quello degli abitanti quindi su ogni problema complesso no su ogni problema in generale ma su ogni problema che in cui l'implicazione di tutte le parti è necessaria altrimenti non capisco altrimenti non funziona e ormai sono sempre di più i problemi così io ho bisogno di costruire dei contesti in cui queste tre parti si incontrano i portavoci i rappresentanti di queste tre parti si incontrano e dialogano apprendono uno dall'altro per cui vediamo se riusciamo a dire qualcosa di regola sapere legionale know-how i tre saperi in dialogo sono completamente diversi dai tre saperi separati allora per fare dialogare fra di loro i tre saperi che sono indispensabili per capire di cosa stiamo parlando e poi trovare dei progetti di comune gradimento ognuno dei tre saperi deve fare un salto da una modalità normale che è quella dell'ascolto giudicante a un'altra modalità meno normale esiste ma non adoperata in modo sistematico che è l'ascolto attivo questo vuol dire capire cosa vuol dire che in che modo io sono un politico diverso come cambia il senso della rappresentanza politica il senso dell'ammissione politica se io passo dall'ascolto giudicante all'ascolto attivo come cambia un professionista da esclusivo diventa inclusivo capace di ascolto che assume che la propria competenza si deve misurare con l'esperienza concreta della gente e lo stesso per il sapere e la vita quotidiana non è chiamo la gente adesso parlate e discutete quando avete discusso vediamo che cosa pensate no cosa pensano senza una metodologia di ascoltativo litigheranno si divideranno in fazioni schieramenti come è normale in una realtà di saperi separati quindi per riuscire a far funzionare una democrazia efficace in una società complessa io ho bisogno di una cassetta degli attrezzi voi avete bisogno di una cassetta degli attrezzi abbiamo bisogno di una cassetta degli attrezzi che ci aiuta abbiamo detto che bisogna cambiare le modalità di pensiero dal diciannovesimo al ventunesimo secolo una modalità è passare dall'ascolto giudicante che poi adesso vediamo come funziona all'ascolto attivo e quella è la base però collegato a questo c'è il passaggio dalla centralità delle opinioni alla centralità delle esperienze e anche su questo ci veniamo subito dalla centralità degli individui la società come sommatoria di individui alla società come persone in relazione quindi la priorità della relazione rispetto alla sommatoria di singoli ognuno uno per conto suo l'ascolto giudicante dal quadrato al cerchio vediamo anche questo vediamo l'immagine fra poco cioè tutte le nostre strutture logistiche fisiche sono quadrate ci avete presente solamente nelle tribù africane o dall'America Latina abbiamo ancora le capanne rotonde noi qui abbiamo una sala tutta squadrata voi siete tutti squadrati allora il fatto che lo spazio in cui noi siamo immessi è fatto così orienta il nostro pensiero in un certo modo piuttosto che un altro quindi c'è un problema di poi dopo passare dalla ricerca del consenso alla ricerca di innovazione cioè l'idea è io devo far incontrare fra di loro esperienze e punti di vista diverse cioè questo contesto è un contesto fatto di diversità nel invitare chi partecipa a questo contesto di dialogo devo stare attenta che ci siano tutte possibilmente i punti di vista e anche gli interessi differenti quindi devo invitare gli antipatici devo invitare i nemici per virgolette devono essere lì li devo invitare dicendo signori qui ci incontriamo per ascoltarci non per giudicare ognuno ascolta l'esperienza dell'altro questa è la prima fase dell'incontro però senza chi la pensa differentemente non funziona perché l'obiettivo non è il consenso è l'innovazione se l'obiettivo fosse il consenso andiamo avanti in eterno perché poi come fai a convincere le persone non si convincono non è a livello di opinioni che questo cambiamento che l'immersione dell'intelligenza collettiva avviene quindi questo vuol dire sapere di alternative dispute resolution come si chiama sapere come il conflitto può diventare e la diversità da occasioni di schieramento a occasioni di apprendimento di butu apprendimento anche qui sono delle dinamiche che si studiano cioè che non è una roba teorica nella pratica si può vedere e infine passare da una modalità di pensiero in cui siamo totalmente immersi vittime che è soporifera a una modalità di pensiero che ci permette di imparare dalle buone pratiche perché altrimenti noi andiamo a vedere le buone pratiche e non impariamo un accidente che è quello degli incidenti critici quindi questa è la cassetta degli attrezzi quella che vi ho detto prima che sono i salti nei modi di pensare la democrazia deliberativa mette a disposizione è fatta in modo tale per cui il potere politico quando decide ricorre a una strumentazione di partecipazione dei cittadini che è basata sopra i principi che vi ho appena detto che comunque adesso ve l'illustro che sono che doveste conoscere ci sono l'open space technology è assolutamente fondamentale quindi cercatevelo se non avete e non lo conoscete andate le esperienze ormai sono infinite in tutto il mondo ma l'open space technology è una modalità di incontro in cui rispetto a un obiettivo e io ne ho fatti volte anche in Italia e non solo in Italia rispetto a un obiettivo cosa se ne facciamo di questo stabilimento abbandonato come risaniamo questo quartiere quello che volete rispetto a questo obiettivo voi chiamate tutte le persone che sono implicate a titolo diverso interessate a questo problema e chiedete di fare delle proposte delle proposte positive le persone portano la loro proposta su uno schermo sopra una bacheca e poi c'è un momento in cui tutti coloro che sono interessati alla proposta che ho fatto si incontrano e discutono e quindi l'esito non è più la mia proposta ma è la mia proposta elaborata da un gruppo di persone interessate a quella proposta quello che succede è che in una struttura fatta così che è una struttura circolare con gruppi circolari che parlano eccetera è impedito due cose fondamentali che ti impediscono di pensare alla politica che sono la critica e la lamentela rispetto a un tema del genere la gente qual è la tua proposta qual è la tua esigenza che tu potresti vedere lì quindi il problema non è un problema di carattere delle persone o di orientamento morale dei singoli qui è un problema di una struttura una modalità un regolamento una dinamica di gruppo che favorisce una modalità di ascolto e di lavoro collettivo rispetto a una dinamica che invece favorisce lo schieramento e la divisione quindi a Nantes nel 2010 prima e nel 2021 poi a Nantes nel 2010 come città nel 2021 come metropoli come area metropolitana cioè 24 comuni le assemblee parlamentari ai due livelli hanno votato in unanimità un nuovo statuto che cambia il mandato elettorale quindi tutti coloro che sono eletti in questa città si assumono la responsabilità di quando ci sono delle decisioni da prendere temi complessi di mettere dentro il processo deliberativo cioè decisionale uno di questi degli strumenti che vi dicevo prima uno strumento di democrazia deliberativa per cui di consultazione degli abitanti in dialogo con gli esperti quindi tu hai che io devo decidere cosa fare sul covid l'hanno fatto vi sto dicendo un esempio concreto c'è il covid il 2019 scoppia ovunque noi stiamo ascoltando alla televisione i vari esperti che litigano fra di loro queste robe e qua loro cosa fanno? mettono in piedi un'assemblea dei cittadini cioè 80 cittadini scelti con un campione statistico rappresentativo della diversità territoriale che per quattro mesi si discutono fra loro e con gli esperti che tutti gli esperti di cui hanno bisogno come stiamo gestendo qual è la nostra esperienza della emergenza sanitaria come ne usciamo più saggi questo è il compito che anche queste 80 persone per già casa hanno ne discutono per quattro mesi producono un quaderno di 170 pagine di cui un centinaio sono proposte che vengono fuori dalla discussione fra loro a partire dalle loro esperienze e con gli esperti allora questa è una cosa veramente molto importante adesso gli altri sono quindi questa è la convention citoyenne in italiano si chiama assemblee dei cittadini la convention citoyenne un altro è l'atelier di qualificazione mutua che è anche questo potrei portarvi varie esperienze ma un atelier di qualificazione mutua fatto a Nantes nel 2010 è come dare voce senza voce la domanda se noi vogliamo fare per davvero la democrazia vera come facciamo a fare essere democratici e non diamo voce a quelli che sono più marginali e tagliati fuori allora per rispondere a questa domanda invece di mettersi lì a leggere libri hanno chiamato degli esperti e hanno fatto un laboratorio di qualificazione mutua in cui si sono incontrati per sei giorni due giorni 15 giorni di pausa due giorni interi dieci persone dei quartieri più poveri alcune persone dei servizi alcune persone delle organizzazioni sociali che si occupano di marginalità e alcuni politici per intere giornate due intere giornate hanno ascoltato le reciproche esperienze sopra la mia voce sentita quando è sentita non è sentita perché eccetera io ti sto ascoltando perché ognuno ha detto la propria esperienza personale su questo l'hanno anche messa in scena cioè le scenette più interessanti le recitavano con un sistema da boal e poi hanno prodotto una serie di raccomandazioni su come fare una democrazia capace di ascolto di senza voce raccomandazioni che non sarebbero 25 raccomandazioni in realtà che non sarebbero mai uscite senza questa metodologia quindi questo è l'esempio la convenzione poi c'è il debate public che è il debate pubblico che dal 95 c'è in Francia e dice chiunque fa degli interventi sul territorio importanti che costano più di tot è obbligato prima a consultare la popolazione del territorio per capire cosa ne pensa eccetera eccetera allora vado un po' più veloce perché se no non finiamo più due strumenti che ti aiutano a capire come funzionano tutte queste cose qua sono il sondaggio deliberativo e il diamante di Kanner io vi spiego questi due e poi dopo riprendo il tema che prima Tommaso ha ben segnalato individuato che è come fare in modo di avere un potere che sia responsabile allora io sbaglio sempre è questo allora ho detto il sondaggio deliberativo e il diamante di Kanner sondaggio deliberativo c'è questo studioso di Stanford che si chiama James Fishkin è scritto di lato che ha deciso di incominciare a farci capire che cosa vuol dire pensare perché la democrazia chi ha il potere dice vediamo cosa pensano i cittadini uno degli strumenti fondamentali che oggigiorno ci vengono rifilati come strumento per capire cosa pensano i cittadini è il sondaggio di opinione il sondaggio di opinione funziona su questo tema la votazione la sanità qualsiasi altra cosa chiamo individualmente un campione di persone di individui e ognuno chiede tu cosa ne pensi e ho un arco di possibilità e poi la soluzione il risultato è il 36% pensa così 5% e io ragiono non sopra questo arco di possibilità quindi questo è e poi dici vedi come pensa la gente la gente pensa questo ora quello che ha fatto Fischkin è prendere le stesse persone che erano state intervistate per un campione di sondaggio opinione proprio le stesse invitarle a incontrarsi in un posto per un paio di giorni a discutere di quel tema queste persone questo l'ha fatto diecimila volte cioè quello che vi sto dicendo è il risultato di un'indagine scientifica sistematica cioè non è un esempio uno è proprio una cosa ormai assolutamente assodata tu prendi le stesse persone le fai incontrare le fai discutere fra di loro in cui raccontano qual è la loro esperienza di quel tema eccetera parlano con gli esperti alla fine di queste due giornate gli fai la stessa domanda e 70% ha cambiato opinione allora questa è una dimostrazione che fra l'opinione grezza del sondaggio no? e l'opinione informata c'è un baratro e che la democrazia se vuole chiamarsi tale faccia il piacere di organizzare dei contesti in cui i cittadini possono farsi un'opinione informata perché altrimenti è aria che fritta che gira quindi il cosa vuol dire pensare la risposta del sondaggio di opinione non è quello che la gente pensa è quello che la gente risponde a quella domanda che è molto diverso perché pensare vuol dire dialogare quando noi pensiamo dialoghiamo con noi stessi diciamo abbiamo varie voci dentro che dialogano senza dialogo non c'è pensiero quindi quello non è cosa pensa la gente ma è una forma anche può essere divertente giocosa di manipolazione dipende no? ma è una cosa totalmente diversa da quello che la gente pensa ed è una cosa in cui il ricercatore rispetto a colui che è il soggetto dell'oggetto della ricerca ha un potere immenso perché il soggetto della ricerca non può mettere in discussione la domanda io per pensare devo poter mettere in discussione no guarda io la domanda la fai in un altro modo cioè io la vedo in un modo diverso no tu hai quell'arco delle cose devi esprimerti su questo qui siamo totalmente dentro una modalità di manipolazione perché non ci ribelliamo perché la nostra università non produce più dei sondaggi deliberativi perché non confrontiamo più spesso l'esito di un sondaggio deliberativo a un sondaggio di opinione uno dei motivi è che noi siamo totalmente abituati a perché alla base del sondaggio di opinione c'è l'idea di una società fatta da una sommatoria di individui come isole ognuno di noi è un'isola e ognuno di noi ha dei pensieri ha delle emozioni ma sono cazzi suoi sono cose sue non è che tu riesci non sono l'esito dell'essere una persona è una parte di una serie di relazioni invece lo sono quindi qui abbiamo una visione totalmente distorta di come funziona l'autorità il potere la comunicazione e noi ne siamo assolutamente vittime finché non ci ribelliamo a questo e non mettiamo in pratica una cosa diversa una delle dimostrazioni di questo è il fatto che la nostra democrazia è basata sopra il disegnino che c'è sotto assemblea del XIX secolo eccetera quando noi le nostre assemblee decisionali sono tipicamente assemblee in cui c'è una un porta una chairperson un torno del giorno le persone sono sedute come voi più o meno disposte come voi stiamo discutendo una cosa uno parla un altro chiede la parola qui ha il diritto di parola il diritto di contraddittorio e il voto dentro una normale assemblea in cui hai l'oratore e la massa il pubblico come siete voi adesso il rapporto è un rapporto per cui io sto parlando e voi pensate giusto sbagliato vero falso interessante noioso cioè voi ascoltate in modo giudicante siete obbligati ad ascoltare in modo giudicante dal layout di questa sala e dal fatto che io sto parlando e voi siete messi tutti individualmente lì ad ascoltarmi non siete riuniti in gruppi che possono poi discutere e parlare fra di loro quindi il nostro sistema politico il nostro senso della rappresentanza il nostro senso della democrazia è basato sopra dando per scontato che noi siamo una massa di individui con dei leader quindi qualcuno di voi vuole parlare adesso deve alzare la mano e deve proporsi come leader altrimenti non parla quindi non come persona non può mettere in gioco la propria esperienza la propria vita la propria personalità deve mettere in gioco la propria figura da leader contro il leader che ha parlato prima eccetera questo rende tutto ideologico e astratto il dibattito politico il al posto di questo c'è come si crea un contesto che favorisce e promuove il dialogo ah no dai vabbè eccolo questo è un esempio di assemblea del ventunesimo secolo vabbè a New York sono 3.000 persone potrei portarvi molti esempi di queste cose comunque è fatto di tavoli ognuno dei quali cerca di essere più una presenza differenziata possibile e c'è un tema c'è una provocazione un intervento iniziale di provocazione ci sono i tavoli che discutono quello e nel tavolo tu parli come persona io divento Marianella che ha una certa esperienza di vita e dice cosa pensa quali sono le proprie reazioni per tutto quello ascolta tutti gli altri alla fine portiamo un esito alla nostra discussione alla plenaria e così via questo si chiama assemblea gruppale ed è il modo con cui puoi incominciare a far interagire la gente nel ventunesimo secolo allora arriviamo quello lì era il ragionamento sopra il sondaggio il passaggio al sondaggio di opinione al sondaggio deliberativo il sondaggio deliberativo è veramente molto importante perché sulla base del fatto che quando la gente il campione statistico del sondaggio di opinione era comunque un campione statistico quindi era già una scelta di persone stratificato che rappresentava giovani vecchi donne uomini a vari livelli di preparazione quindi aveva la diversità questa diversità trasportata dentro un contesto deliberativo di sondaggio deliberativo quindi in cui ci si parla fra persone e si impara fra di noi e con le cose c'è da porta ad una diagnosi e ad una capacità di coprogettazione molto più efficace allora sulla base di questo una delle cose che mi hanno interessato e poi mi hanno portato a Nantes è stato il fatto che Macron nel 2019 ha convocato la Convenzione citoyenne sulle climat cioè 150 cittadini come ci è arrivato sarebbe lunga comunque a furia di sbagliare poi ha fatto anche questo e 150 cittadini hanno lavorato per nove mesi per decidere come si fa nel 2030 ad arrivare con una politica sul clima che accetta i criteri stabiliti dalla Parigi nel 2015 e questa assemblea di gente presa c'era la badante la ragazza di 16 anni il professor a nord a sud cioè presa in giro per tutta la Francia eccetera ha lavorato per nove mesi ha prodotto una delle delle proposte su come gestire il cambiamento climatico estremamente avanzate quindi è molto strano questo c'è una ragazzina di 16 anni perché erano 6 minorenni che è stata intervistata da The Guardian e ha detto che gli chiedeva che ha seguito molto questa cosa gli ha chiesto cosa ha imparato e lei ha detto ma io ho capito tre cose intanto ho capito tre cose sul clima di cui non sapevo niente perché era sul clima secondo ho imparato ad ascoltare e adesso ho capito che esiste l'intelligenza collettiva ho una ragazza di 16 anni che ha fatto un'esperienza del genere che ti dà una risposta del genere fa pensare forse è un'esperienza che va ripetuta che va affrontata allora io avendo seguito questa che poi non è stata presa sul serio dal Parlamento francese ma un altro per le mani invece Annante sì l'hanno fatta per il covid e anche lì se voi vi leggete gli esiti ve li guardate anche perché poi potete vedere sul video perché sono estremamente avanzati da questo punto di vista seguire proprio gli incontri le facce le domande le risposte tra di loro e con gli esperti partecipi a quell'incontro e vedi che anche lì sono venute fuori delle proposte estremamente sagge 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 allora questo è il allora adesso questo è sul Convenzione citoyenne e sul sondaggio e sul sondaggio liberativo questa è l'ultima cosa che vi dico perché qua siamo fuori tempo il il questo diagramma che so che vi faccio vedere è una sintesi delle dinamiche che è necessario mettere in moto perché il sapere ordinario diventi saggezza diciamola così per dire in breve cioè il il sapere ordinario da solo non è saggio per niente quello know-how da solo non è saggio per niente quello dei politici meno che meno nel loro dialogo tirano fuori viene fuori l'intelligenza collettiva però questo dialogo richiede una facilitazione richiede un un regolamento un modo di organizzare i contesti e di farli sviluppare che è diverso da quello della nostra assemblea normale cioè nella nostra assemblea noi abbiamo la gente arriva c'è l'ora del giorno discuti contraddittorio voto quella è un modo di regolare come si arriva a una decisione da quel modo bisogna passare a un altro e questo illustra bene la differenza perché cosa fa vedere questo schema io vorrei poterlo segnalare lì però adesso guardatevi i due triangoli iniziali uno contro l'altro abbiamo un nuovo tema questo nuovo tema io chiedo alla gente riunita di dirmi cosa ne pensa quali sono le loro opinioni e qui ognuno interviene e dice per me bisogna fare questo per me la diagnosi è questa ognuno interviene e quindi abbiamo che si apre un arco di possibilità qui ci sono varie posizioni interessi contrapposti punti di vista quello che è proposte diverse appena noi arriviamo a questo nella nostra cultura nella nostra mentalità ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi secondo me il problema è come facciamo ad arrivare ad una soluzione quindi appena tu hai il problema ti agiti diventi nevrastenico e dici qua dobbiamo trovare la soluzione e quindi tutti gli sforzi sono facciamo un tavolo cioè la tavolite acuta cioè abbiamo qual è la soluzione facciamo un tavolo parliamo 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 finché finalmente poi alla fine votiamo maggioranza e dobbiamo decidere perché non possiamo sopportare questa diversità di posizioni che non porta a nulla che viviamo come negativa quindi questo è il modo come noi gestiamo normalmente i problemi quindi la prima regola dell'arte ad ascoltare è non aver fretta di arrivare alle conclusioni le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca invece noi siamo totalmente basati sopra questa ansia di arrivare alla risposta su problemi estremamente complessi arrivi a ridicole risposte non faccio esempi ce ne sono troppi allora questo è il modo normale di funzionare rispetto a questo modo l'intero diamante o diagramma di Kanner fa vedere come invece bisogna aiutare facilitare perché qui ci vuole un facilitatore una facilitatrice ci vuole che cosa fa la facilitatrice intanto va bene l'inizio ognuno dice quello che la propria esperienza chiede di parlare di esperienze non di opinioni già questa è una bella differenza l'esperienza vuol dire che se io parlo della sanità io dico quando io mi dovevo fare l'attac ho telefonato alla cosa sanitaria e mi hanno detto che fra un anno posso farla poi ho telefonato un altro e lo stesso alla fine ho deciso di pagare le esperienze sono di questo tipo molto personali molto concrete allora prima ognuno parla e dice la propria esperienza e anche qual è l'idea per risolvere quel problema ognuno dice quello che vuole il facilitatore dice adesso questa è una fase di ascoltativo quindi noi ogni volta che una persona interviene e dice una cosa divergente da quella che è la nostra esperienza o la nostra idea la nostra proposta invece di pensare di reagire in termini vero falso giusto sbagliato amico nemico eccetera quindi in modo giudicante intervengo con l'ascolto attivo quindi cosa vuol dire questo l'ascolto attivo vuol dire che io trasformo quello che era il giudicante in una domanda e posso dire ma a me sembrerebbe così com'è che a te ti sembra cos'ha cerco di capire meglio le ragioni delle persone che la penso di differenza diceva il padre al ragazzo ogni volta che c'è una persona che ti contraddice o che la pensa differentemente non spiegargli che ha torto e cerca di capire perché ha ragione questa è l'ascolto attivo ed è una una cosa collettiva in cui il facilitatore deve sapere come si fa perché non è così naturale per le persone farlo quindi attraverso la parafrasi cioè sono una serie di metodi per cui gli aiuti dopo quando hanno imparato lo hanno quindi abbiamo tutta una fase di ascolto attivo che è una fase iniziale che porta a capire le preoccupazioni più generali che stanno alla base delle posizioni delle persone quindi ti porta a passare da io vorrei questo e i motivi più generali per cui vorrebbe quella cosa lì comunque alla fine della fase dell'ascolto attivo più o meno ti trovi in una situazione di impasse cioè tutti hanno ragione però non c'è nessuna soluzione cioè non si riesce a trovare una soluzione quindi è qui che la domanda è beh come facciamo a trovare una soluzione inedita che va incontro agli interessi di fondo alle preoccupazioni di fondo di tutti una domanda assolutamente assurda è come quello lì del contadino povero che hanno ragione tutti i tre no? una domanda assolutamente assurda assolutamente necessaria perché tu dici ok vediamo proviamoci e proviamoci e incominciamo ad andare a vedere in altre parti del mondo del mondo vicino medio lontano ovunque se ci sono delle situazioni analoghe che ci possono ispirare le famose buone pratiche perché e a questo punto tutti si mettono alla ricerca ma anche se non c'è bisogno sia le buone pratiche in giro per il mondo ma anche io dormendo mi viene un'idea quando la prossima riunione la dico cioè si tratta di porsi la domanda giusta perché vengono fuori delle risposte e la domanda giusta è come facciamo ad arrivare a questo un orizzonte desiderabile per tutti rispetto a questa cosa qua la domanda assurda va apposta se io voglio cominciare a tirar fuori delle risposte delle ricerche eccetera quindi abbiamo il passaggio dalla zona i termini nero sono i termini di camera in rosso sono i miei sono la stessa cosa io sono più positiva lui la chiama la zona divergente io la chiamo quella di ascoltativo lui chiama ansiogena per me divertentissima moltiplicazione delle opzioni cioè lì ognuno compreso il facilitatore e i facilitatori cerca delle cose e le trova le trova perché ce ne sono moltissime in giro per il mondo il motivo per cui noi non vediamo le alternative siamo prigionieri come diceva Tommaso prima there is no alternative non c'è nessuna alternativa della realtà è che noi non la guardiamo noi come quel povero contadino pio pio e povero siamo prigionieri di quelle alternative e non ci poniamo il problema di andare a cercare intorno questo dobbiamo farlo collettivamente ed è di grande divertimento perché è liberatorio è creativo incontri gente meravigliosa perché andando a trovare le buone pratiche ti trovi della gente che ha fatto delle cose bellissime che non avresti mai incontrato senza abbiamo chiuso e quindi moltiplichi le opzioni la moltiplicazione delle opzioni va avanti fino a che emerge qualche idea che tutti dicono cavolo non ci avevamo pensato potrebbe essere interessante intorno a quell'idea cavolo organizzi con un metodo sociocratico un gruppetto di persone siccome vi siete conosciuti durante questo processo ognuno può dire secondo me del gruppetto di persone che fa il progetto a questo punto sulla base di queste robe qua ci dovrà essere il pinco pallino eccetera perché mi fido di quella persona lì la fiducia che è nata attraverso questa esperienza quindi si forma un gruppetto più piccolo che sulla base di tutta questa esperienza l'ascolto attivo la moltiplicazione delle opzioni eccetera arriva a fare un progetto che poi riporta e poi si discute e si discute la fattibilità i tempi tutto quello che volete eccetera quindi questo è un processo che però va detto cioè non è che si può fare senza dirlo dovete dire cari signori in questa riunione noi adottiamo una metodologia dell'ascolto attivo quindi non è che non dovete pensare che è sbagliato dovete usare il pensare che è sbagliato in un modo per capire invece che per bloccare sulla quella posizione le persone insomma quindi questo è il la cosa adesso finisco perché mi stanno fustigando e hanno ragione devo aggiungere la cosa per collegarmi a Tommaso cioè Anant hanno deciso che la modalità di rappresentanza politica è basata sul fatto che io quando voto una persona quella persona ha il dovere di convocare i territori gli abitanti dei territori sui temi che interessano quelle persone di quei territori e il regolamento è un regolamento molto preciso che dice i cittadini hanno diritto di incontrarsi incontrano con quelle modalità lì per cui ci devono essere tutti i punti di vista parlano con tutti gli esperti di cui hanno bisogno scrivono una proposta i politici sono obbligati a studiarsi punto per punto quella risposta entro tempi decisi rispondono cioè entrano nel merito in modo articolato quindi possono dire anche questo non possiamo farlo non è che devono decidere quello che hanno però devono rendere conto cosa faranno di quelle cose cosa no e i cittadini hanno il diritto intanto di interlocuire anche su questa risposta dei politici e poi di verificare monitorare se e come viene fatto per davvero allora da questo punto di vista noi abbiamo che i politici si assumono la responsabilità di avere una società civile più matura più capace di discorso invece che togliergli la possibilità di discutere e anche si tengono responsabili rispetto a quello che fanno quindi basta vi ringrazio grazie mille allora tantissime cose interessanti una delle frasi che mi sono appuntato è senza dialogo non c'è pensiero allora prima di dare la parola per le domande visto che abbiamo ascoltato tanto ci prendiamo un minuto per rileggerci le cose che ci siamo annotate quelle che ci hanno colpito e anche forse per ascoltare di pancia non solo di testa ma anche di pancia ciò che più ci ha colpito e dopo qualche minuto per parlarne con il vicino perciò ci diamo 3-4 minuti per fare prima questa rilettura personale poi in confronto con gli altri e poi via le domande che a quel punto saranno frutto del dialogo bene si parte grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.